ancora un attimo per favore 382 l'isola del pacifico e insomma quel giorno di quasi estate del 1981 poi al mare a non sospettare niente io avevo appena fatto gli orali della maturità un anno prima avevo risposto alla domanda su de sanctis parlando invece di benedetto croce ma era andata ero l'unico nella storia della scuola più antica severa e rispettata di firenze ad avere fatto quella capriola quel salto quel gioco di prestigio finito l'esame ero solo alle due del pomeriggio me ne andai in un giardino deserto c'era solo terra polvere un paio di alberi e lì vicino la chiesa della mia infanzia e lì da solo in quel giardino cominciai a saltare sarebbe stato bello mamma se ti avessi telefonato se ti avessi raccontato tutto come un bello scherzo che avevamo fatto al mondo e invece no mi tendi tutto per me ero pieno di rabbia contro il mondo contro dio che aveva fatto ammalare papà contro quella pagina dei libri di medicina che alla voce terapie per il male che gli avevano diagnosticato aveva uno spazio bianco ero pieno di rabbia per quei medici che lo stavano lasciando andare senza provare a salvarlo ero pieno di rabbia contro quella malattia che non avevo ancora sentito nominare mai ce l'avevano solo in un'isola del pacifico lì ce l'avevano tutti anni dopo avrei letto un libro di oliver sachs quel signore di cui ti parlavo prima mamma lui è andato in quell'isola del pacifico proprio per vedere a che cosa succedeva a tutte quelle persone malate lì dove avere quella malattia che chiamavano e chiamano litico bodig era normale tutti malati erano considerati con rispetto esattamente come gli altri perché tutti in famiglia avevano qualcuno malato di litico bodig invece qui da noi essere malati e di quella malattia è una mostruosità di cui ti devi vergognare parliamo tanto di inclusione di non discriminare ma io me li ricordo gli sguardi della gente nell'autobus nella strada mi ricordo tutti mi ricordo gli sguardi curiosi che ti frugavano addosso papà sguardi di chi si sente migliore di te solo perché non trema perché ha la voce forte perché sta in piedi bene senza oscillare senza bloccarsi si sentivano tutti in diritto di guardare come per esigere spiegazioni beh spiegami avrei potuto farvi felici raccontarvi come era andata quella mattina dirvi che ce l'avevamo fatta che la malattia di papà non ci aveva reso dei perdenti ma aveva avuto fra le sue conseguenze quella di crescere un figlio che sapeva combattere soffrire tacere per mesi a tutti che riusciva a farcela anche se in una cosa così piccola avremmo dovuto festeggiare saremmo dovuti andare in un bel ristorantino e poi papà magari ti sarebbe andato di traverso qualcosa e tutta la sala avrebbe cominciato a guardarci fra l'imbarazzo e il disgusto disturbata dagli spasmi dai colpi di tosse disturbata dalla nostra sofferenza